L'annuncio della prima condanna a morte decisa dalla Repubblica Islamica in Iran in relazione ai disordini degli ultimi due mesi scuote il mondo. Già nei giorni scorsi il cancelliere tedesco Scholz si era domandato che razza di governo fosse quello che spara i propri cittadini e il presidente francese Macron ha incontrato alcuni attivisti iraniani elogiando la loro rivoluzione, usato proprio questo termine, provocando in entrambi i casi la reazione stizzita di Tehran. Ma ora tutta la comunità internazionale è chiamata ad intervenire. Domenica un tribunale della capitale iraniana ha condannato a morte una persona, di cui non è stata fornita alcuna generalità, accusata di aver partecipato ai tumulti seguiti alla tragica vicenda di Masa Amini, una ragazza kurda di 22 anni, morta dopo essere stata arrestata per non aver indossato correttamente il velo. Secondo il verdetto del tribunale, l'imputato è stato giudicato colpevole di aver appiccato il fuoco ad un edificio governativo, di aver disturbato l'ordine pubblico, di essersi riunito e di aver cospirato per commettere un crimine contro la sicurezza nazionale, e di essere un nemico di Allah. La condanna non è definitiva, l'imputato potrà quindi ricorrere in appello. Dall'inizio delle proteste sono state incriminate più di 2000 persone, la metà delle quali a Tehran, secondo i dati forniti dalla magistratura iraniana. Le organizzazioni per i diritti umani attivi all'estero hanno riferito di 15.000 arresti, cifra però smentita dalle autorità iraniane.